bella ragazzi bentornati sul canale di granana siamo qui siamo tornati con un nuovo che play adesso io ando subito a prendere tutti quanti mentre prendo non ci guarda che gli faccio comunque questo video esce nel 2014 che notizia mamma mia notizione proprio ecco ne prende uno ne prende un altro doppio uccisione 150 vai per la cam stai ulti qua per lui sto dietro zitto non sento un cazzo stai zitto vai vai sali su mamma mia c'ha paura eccolo eccolo mamma mia è un altro un altro un altro lo so cazzo ammazzalo no vabbè comunque stiamo dicendo il video esce nel 2014 bello fare così però pensate che noi abbiamo fatto noi abbiamo fatto questo video un anno fa sì mamma mia l'anno scorso sono proprio un borlone un anno fa non va bene devi dire l'anno scorso ce la puoi fare eh grande tiro lunga gettata oh 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 mamma mia non mi dargli che proghe no no meno male che ci hanno il cecchino sembra da un po' che è rimorto vai così vai così devi andare su C abbiamo registrato questo C devi andare su C devi farmi farla mi fa rla oh oh grande ancora abbiamo registrato questo così avanti e 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 o e e e o o ma se te piano qui così mori occhio attento a destra mamma mia ancora vai dare l'incredibile ancora incredibile vai 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 posso dire una cosa abbiamo registrato questo campaign prima di registrare il vlog che voi avete visto per gli auguri di madonna eva di capodanno diciamo che quindi noi vi chiediamo come è andato il capodanno anche se non vi abbiamo augurato il buon capodanno ancora e ci sono delle un attimo delle cose che vi deve dire la regia non vi deve dire nulla la regia ok e quindi diciamo che come è andato il capodanno qui mentre auguri di buon capodanno nel vlog che avete già visto intanto cosa vuol dire? no volevo dire che abbiamo registrato sul gameplay prima di... ok l'ho appena detto allora non devo dire niente allora zitto vai gioca vai oddio che ce l'ho addosso questo cazzo di hind ok scusa eccolo 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 come andato il capodanno tutto bene tutto a posto stato bellissimo come i ticci varie cose prendi il cecchino prendi il cecchino cazzo me frega dai fa un po' di quick rendi movimentato questo gameplay comunque io non ti sento oh oh colpo in testa oh attenzione giochi con un clan che si chiama figa no no sta arrivando eh eh mannaggia a me mannaggia complimenti vai così mi hanno tolto tutto così erano mila ma perché non riesco più a fare una kill che ne so eh eh no vabbè comunque questa è sfiga dai cioè ho tre kill tipo che me levano così sfiga 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 no non hai visto cosa ho fatto puoi dare parola alla regia no non devi dare parola ragazzi di granas com'è andato il vostro capodanno vedi lo chiedono anche dalla regia eh non ti possono rispondere quindi oh mortacci ti risponderanno sui momenti ah ok perfetto no io volevo sapere i ragazzi di granas ah noi il capodanno del granas il nostro capodanno è andato è andato non sappiamo come è andato dove è andato a fancuno cioè sicuramente andrà a farsi gottere dove siete andati? eh andremo in abruzzo come andremo? andremo si perché come ho spiegato prima questo abbiamo registrato e tutto quanto vabbè salutami pure andrei 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 piputkin piputkin ah ma non so se nelle armi di di colp cioè c'è l'armi di colp sì cioè allora facciamolo questo mio dito silenziatore perché sapete che Mikhail Kalashmikov è morto il 23 dicembre e speriamo che non muoia vabbè a canna io direi a canna un altro Mikhail chiamato vabbè basta a canna ben pulita la canna perché sennò poi i proiettili vengono deviati sì vabbè abbiamo l'esperto di armi speriamo che dopo Mikhail vabbè ma nessuno ti ha invitato Kalashmikov non morirà un altro Mikhail e questo è andato di Schumager siamo tutti con te Schumi basta spiegatevi a mettere lo sto video le schiade che poi è una merda vabbè si è scrozzato meno male è morto porca madonna casca tutto qua vabbè era vuoto meno male almeno quello almeno la botta di culo dai ok siamo tornati qui eccoci qua con un nuovo gameplay io ho sempre stato qui no vabbè per dire e a quanto stai? a tre? oh 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 vai tu che cazzo era? che ne sono? no non mi ha chiesto di niente mazza sono un fenomeno un grande sono grananas sta là eh no è morto un attimo è morto eccolo eccolo vedi che ti stacito non ti fa lavorare si vede che c'hai cuffie questo è un attrullo proprio oh 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 mamma mia prendi l'L115 con effetto perfonante stai zitto no riprendere l'L115 con effetto perfonante prendiamo bravo così non sente dalle cuffie vai prendi A tu 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 guarda questo oddio sta qua sta qua sta qua sta qua sta dentro la casa sta dentro la casa ma dentro la casa rischio di via le botte oh qua sta feste che bella oddio c'ho dietro oh oddio ma fame è nata qua eh sì è meglio oddio ma che cazzo scarca senti i proiettili dappertutto perfetto ora da dietro ti uccideranno ok c'è qua dove dove oh ma quanti sono no ma dai ma che cosa è la cosa che non doveva capitare giubbotto antiproiettile hai sparato all'unico che c'ha il giubbotto penso vai intanto questa partita diciamo comunque stanno bene 24 9 eh ma benissimo proprio grandi standard non si arriva da manca specialista da su ma come si fa occhio ancora il maniac mamma mia goto goto quando passa il maniac goto troppo perché ti da solo 50 ammazzi un maniac che c'è non riesco a capire che punti g che merda oh guarda c'è sta Harry ma c'è sta quello sopra no no c'è sta Harry 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 Porter e ridi pure sui battute tuoi che non fanno manco ride punto vabbè basta stanno tutti qua più o meno si vai pia me sta cam mamma mia Daryl se la rischia torna indietro uccide quello sopra o probabilmente morirà nooo sti cazzo di esplosivi di merda ma hai tipo perforato un timpano però bene con le fmj ottio mio dai su fai qualcosa di interessante prendi il cecchino almeno diventa divertente stiamo tutti aspettando che faccia qualcosa di interessante complimenti quando è uscito tutto ne si è andato benissimo bravo continua così eccolo qua sta qua a destra lo sento sento i suoi passi ma non ci vuole tanto che i guffi occhio all'estrutivo Noe oh mio dio si camperano qua in una maniera impressionante l'arca di Noe oh 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 ma che non ci vedi eh no è che stavo già pronto ad andare sopra oh non so quella ancora sta là cioè se c'ha sciacallo e mette un altro cosa non cazzo ma mori prima nulla oh 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 un altro oh 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 ma Dio ma che cazzo è oh oh ma che ma spara io no da un commento si eh no non è possibile infatti radio 2 ragazzi comunque vi racconto una sorella sul capodanno vai c'era una vodka oddio mio ma questo che è un paio di battute tristiche cos'è l'ho presa questa battuta non mi interessa la Siri complimenti Siri grazie ma mi guardi tu che stai la sola ti fa una brutta ti fa una bruttazione si con faccia sopra no occhio all'esplosivo esplosivo no vabbè se c'era pesca ma si tagliavamo su sto video eh fatti vai che cazzo eh vabbè io non ce la faccio più cioè sopra quando uno non sa cosa dire comincia a fare eh eh oh oh eh eh oh eh eh e... assist levati porca cara oh 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 eh 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 questo qui va a tempo con me eh eh oh eh sei bloccato eh 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 quello sta ancora lì solo mamma mio dio deve morire male oh 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 o poco oh oh eh oh assist oh eh oh 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 accortellato eeeh muore sparato stai a farlo sicare oh basta è finita la serie negativa di darryl mazza quanto dura sta partita perchè si muore o che è pura una cifra dio santo come morirà non moro tranquillo eh che forza cioè a meno che non pii la game e muori non prenderai la game e quindi muori allora quello muori messo un'altra arte esplosivo si e quindi ora occhio piatrante il culo eh ma mu sa che ci sei cioè ce ne stanno due non è possibile no vabbè regà cioè io non ci posso crede non ci posso crede io io me ne vado cioè ciao dai lascia giocare a me che magari viene qualcosa di più carino prendi ogni badge personalizzato no che prendi l'SC ma che è sta cagata voglio provarlo ma cos'è guarda è sparato oh anche la neve l'Eresdon c'è la neve c'è la neve mamma mia oh ma quanti vuoi più c'è a 30 fa schifo comunque si fa cagare proprio occhio eh oh oh cavi deciso oh l'altro eh vai oh mamma mia che grande no ovviamente ho detto grande no che è grande l'ice gran ma quello hai visto dove si è messo tutto bello un quattolo l'ice gran si va bene prendici per favore e falla finita va bene occhio all'esplosivo occhio all'esplosivo occhio all'esplosivo eh 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 oh oh va bene lo posso fare solo io dove sta? non c'è nessuno no 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 vabbè no ma che cos'è oh ma che è mcgyver è entrato a quel gioco oh mcgk ma che cazzo spari perchè spari alla macchina? perchè devo far così eh beh infatti si manco una volta hai preso oh oh grande e fa che è l'ultima kill no non si vedrà comunque 41-19 non mi hanno neanche accorto eh complimenti bravo è stata inubile va bene il primo video del 2014 è terminato oh ah ma sei morto te? no ah no io non ho scosso ma no tu mi stai prende per culo comunque il primo video del 2014 è terminato e noi ci vediamo al prossimo video bella buon anno buon anno